Il cartellone Non hai riportato l'ultima vittoria, quella di ieri Esattamente Senti, spostiamoci, torniamo alla montagna Noi di Uno Mattina, oltre che fan delle freccette, siamo fan della montagna d'estate e dei rifugi Ti diamo il benvenuto a Lino Zani che è con noi in studio Lino, dove ci porti oggi? Beh, oggi siamo nel Trentino, sulle palle di San Martino Uno dei posti più belli delle Dolomiti Oggi vi porterò a vedere questo rifugio Il rifugio Pradidali Avrete anche una sorpresa, perché per arrivare al rifugio Ma c'era anche Claudia oppure è rimasta? No, è anche Claudia, ma siccome c'erano tre ore di cammino per arrivare a questo rifugio Abbiamo fatto con l'elicottero Ah, vabbè, vabbè, vabbè Vediamolo, lo commentiamo, lo critichiamo in studio No, ma Claudia è stata bravissima Perché poi abbiamo fatto le ferrate Vediamo, vediamo Ti ho portato in Trentino E tu oggi, se io ti ho portato in Trentino, tu oggi dove mi porti? In quale rifugio? Arriviamo al rifugio Pradidali a 2300 metri circa Però ti aspetto una bella sorpresa Questi ragazzi che arrivano addirittura corrono? Noi camminiamo, loro corrono Però Ciao ragazzi Ciao Ma dove la trovate tutta l'energia per correre addirittura in montagna? Stiamo allenando sui percorsi della Primero Dolomiti Marathon Quindi c'è proprio una tradizione qui a San Martino Ci vediamo questi percorsi e partono proprio dalla Primero Dolomiti Marathon 3x40 km, 26 km e un mini trade per le famiglie da 6,5 km Bene, allora vi lasciamo correre e noi andiamo in quota Ciao ragazzi, grazie Ciao, arrivederci Ecco il regalo, sì vabbè ma questo non è da parte di Lino Zani Questo è a merito della protezione civile di Trento Lino, a vederlo così avrei detto, beh questo è un rifugio da esperti Quindi non tutti possono andarci Poi vedo un elicottero che è a terra e penso che è per tutti questo rifugio Noi abbiamo dovuto prendere l'elicottero perché poi da lì abbiamo fatto altre due ore per fare il pallaronda trekker che è praticamente un giro di tutte le palle di San Martino che è un sentiero tutto attrezzato che può essere fatto da chiunque e quindi è una delle cose più belle da fare in questo posto Vogliamo vedere insieme un altro filmato su questo stesso tratto delle Dolomiti un altro punto di partenza e poi ci dici dove ci porti la settimana prossima Eccoci arrivati, ciao Duilio Buongiorno, ciao Come stai? Che bello venire a trovarti E sul cucuzzolo della montagna a 2.300 metri Duilio con il fradidali Grazie dell'accoglienza Da quanti anni sei qua Duilio? Sono qua da 21 anni, ormai un vecchietto sei del lavoro di rifugista La storia di questo rifugio? E' stato inaugurato nel 1896 dal club alpino dell'Alpenverein austro-tedesco Guten Morgen Esatto E poi dopo la prima guerra mondiale passato di proprietà il CAI italiano Senti Duilio che siamo nel cuore delle Dolomiti, nelle palle di San Martino veramente qui ci sono tantissime vie da fare, tantissime escursioni E' nato come rifugio praticamente solo per gli alpinisti, per gli arrampicatori Poi col cambiamento delle cose è ormai diventato tappa dell'alta via numero 2 Una delle alte vie dolomitiche principali Poi c'è varie ferrate in giro, tanti sentieri Bene, adesso io e Claudia è la nostra guida Andremo a farci una bella ferrata Andiamo Grazie Grazie Duilio Ciao ragazzi Renzo, ciao, molto piacere alla nostra guida di oggi Grazie Dove ci porti di bello? Oggi andremo a fare una ferrata che fa parte del Palaronda Art Trek E' un giro delle pale dove all'interno si fanno alcune ferrate Adatte anche alle principianti Via, partiamo Lino, dove ci portate la settimana prossima? Beh, qui eravamo in Trentino La settimana prossima andremo sulla Damello A casa mia praticamente vi porterò a vedere i sentieri della prima guerra mondiale Saremo a sopraponti di legno Quindi veramente a casa mia Vedremo tutti questi bellissimi sentieri Si chiama Sentiero dei fiori ma è un sentiero molto esposto ad altissima quota Grazie Grazie, grazie Lino Zani